Buongiorno a tutti voi e bentrovati con il Tg del mattino di TRG. Vediamo insieme in prima pagina, in circa mezz'ora, le principali notizie dall'Umbria, quelle della giornata di oggi, venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna. E allora partiamo proprio con questo argomento, con le pagine del Corriere dell'Umbria. C'è poco da festeggiare. Questo è il titolo di apertura del quotidiano. Oggi è la giornata delle donne, ma i numeri raccontano che in due mesi sono 136 le richieste d'aiuto. Erano state 374 in tutto il 2023. La punta dell'iceberg, si legge sempre con il Corriere, sono le violenze fisiche, psicologiche, economiche, che continuano a consumarsi in numero sempre maggiore tra mura domestiche e relazioni insane. Ma spunti di riflessioni nella giornata internazionale dei diritti delle donne non mancano però anche in altri troppi campi, ad esempio quello della disparità nel mondo del lavoro, in cui tante donne spesso sono troppo titolate per i ruoli che ricoprono e sono poche, arrivano e solo poche arrivano ai posti di comando. Cercheremo di raccontare e di leggere più che altro insieme alcune storie di donne e anche quella che ci porta in fotonotizia con il Corriere dell'Umbria, il globo d'oro a Monica Bellucci. Parliamo dell'attrice Tifernate che si è giudicata per l'appunto il globo d'oro alla carriera dopo il nastro d'argento delle scorse settimane, quindi un nuovo riconoscimento. In basso nel taglio un medico subisce truffa da 50 mila euro con segnati Rolex e Diamantia, finto carabiniere. Poi invece da Terni la politica bandecchia all'europeo e candida il suo cane Milo, il sindaco è stato bacchettato dai vertici RAI. Poi invece dalla spalla le altre notizie, migliaia di accessi, cerchiamo la verità, il procuratore Cantone è stato ascoltato in audizione all'antimafia. Più in basso a Bastia Umbra la Premier Meloni che domani farà visita a Expo Casa dove firmerà l'accordo di coesione con l'Umbria. Vediamo anche l'apertura con la Nazione, questo è il dorso regionale che ci porta a parlare proprio di Giorgia Meloni. Ecco il patto con l'Umbria, domani infatti la Premier sarà a Umbria Fiere per firmare con la Presidente della Regione Donatella Tesei l'accordo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In fotonotizia invece la giornata delle donne, esempi di tenacia e coraggio con il quotidiano, pronte a ogni sfida, creare lavoro, abbattere pregiudizi, dare fiducia e aiuto combattere la malattia. Racconteremo e leggeremo cinque storie in rosa. Da Torgiano la tragica fine purtroppo di una 64enne era scomparsa da casa, era stato lanciato l'allarme e poi purtroppo nella giornata di ieri è stata trovata morta dopo una mobilitazione importante a partire da due notti fa. A Gubbio invece è lite sullo stadio il Presidente della Società Calcistica al Comune, basta blackout, pronti ad andare via. Lo sentiremo approfonditamente in un servizio nel corso della nostra rassegna stampa. Da Foligno invece scatta la denuncia per l'assalitrice della farmacista, che è un fatto che ci porta negli scorsi giorni, quando per una mancata ricetta una donna aveva aggredito una farmacista, l'aveva malmenata, era stata identificata e ora per lei è scattata proprio la denuncia. Ma vediamo anche l'apertura con il messaggero, dedicata invece alla sanità, regione più soldi per gli ospedali, in arrivo 10 milioni serviranno ad acquistare macchinari nelle strutture di Perugia e di Terni, ma ci sarà una successiva valutazione che permetterà di esaminare ulteriori nuove esigenze. L'impresa è un atleta della nazionale, in fotonotizia si parla del giudocca Michele Milli, un ragazzo non vedente, che però lancia la sua nuova sfida, scalerò il Monte Bianco. E poi di nuovo la truffa del finto attore per rubare i dati sui social, una media di 10 segnalazioni a settimana, e scatta l'allerta anche per questa tipologia di truffa. Come vedete ogni giorno leggiamo di tentativi, di truffe e quindi la massima allerta, soprattutto per quelle che riguardano gli anziani, come ad esempio quelle del finto incidente. Poi bussa di spazzatura sulla testa dell'arbitro, storie di inciviltà dai campi di calcio dell'Umbria. Siamo più nel dettaglio a Perugia. Tra gli altri titoli invece anche quelli dello sport, ciclismo, tirreno adriatico, spot per l'Umbria con la balnerina a fare da vetrina, per la Ternana i due pisani Luperini e Favilli, l'arma in più di Mister Breda, e poi invece Perugia contro l'Ancona, Formisano cambia assetto e tocca a Ricci. Anche di questo parleremo fra non molto, ma intanto restiamo proprio alle pagine del Messaggero per leggere alcune delle notizie in primo piano dall'Umbria. Il welfare in difficoltà, SOS, povertà invalidi, in 40.000 vivono con 333 euro al mese. Se non si arriva al 100%, infatti l'indennità pensionistica è tra le più basse. Nella regione le persone con disabilità hanno raggiunto in pochi anni quota 60.000. Fra le storie che vengono raccontate dal Messaggero, anche quella di due fratelli rimasti soli che devono pagare una retta da 3.000 euro. C'è anche chi è attaccato ad apparecchiature salvavita e non riesce ad onorare le superbollette che purtroppo arrivano. L'intervista a Enrico Mariani ci parla proprio di una situazione drammatica. L'Umbria è infatti la terza regione d'Italia per inabilità, lo ha detto il presidente regionale dell'ANMIL, degli invalidi. Ogni giorno bussano alla nostra porta centinaia e centinaia di persone. Sempre con il Messaggero poi la sanità del futuro. Per gli ospedali sono in arrivo altri 10 milioni di euro. Alla struttura sanitaria di Perugia destinati 5,5 milioni per l'endoscopia. Per l'azienda ospedaliera di Terni invece c'è la conferma di 4 milioni. Il nuovo stanziamento arriva dopo quello più massiccio di 70 milioni di cui vi abbiamo dato notizie anche negli scorsi giorni. Ci sarà poi una successiva valutazione di tutte le esigenze relative alle attrezzature. E con la Nazione invece la gara del trasporto pubblico con l'autority che boccia i quattro lotti. L'organismo di regolazione infatti ha sollevato dubbi e sollecitato approfondimenti con la Filt CGL che dice il problema sono le economie di scala. La regione però commenta si va avanti. Per quanto riguarda invece l'economia, Pasqua aumentano i prezzi, salgono anche le uova fresche. monitoraggio della Feder. Consumatori che ci documenta come uova, colombe, torta al formaggio, carne d'agnello che in questo periodo ovviamente affolano gli scaffali dei supermercati sono l'indicatore più evidente dell'avvicinarsi delle festività pasquali ma anche dei costi di quei prodotti che hanno visto dunque un aumento medio del più 6% rispetto allo scorso anno. Vediamo ora alcune delle notizie dall'Umbria partendo con le pagine del messaggero da Perugia per avvicinarci proprio alle news dalle città. E allora strisce pedonali invisibili a emergenza a fonti vegge fino a piazza Morlacchi tra i punti più critici anche l'attraversamento di Viale Roma dove corrono velocemente le auto al passaggio di fronte alla stazione i dissuasori non sono funzionanti. In basso invece arrivano i semafori intelligenti e più severi, foto precise per far partire le multe. Sono in corso i lavori in via dei filosofi anche all'intersezione tra via Pellini e via Checchi. Ancora dal capoluogo la truffa del finto attore per rubare dati sui social. Un utente ha raccontato questo tentato aggancio da un profilo fake, da un profilo falso con il volto di un noto attore. Boom di furti nei profili Facebook e Instagram, circa 10 casi a settimana. Invesse un ragazzo e poi scappa. Il PM si oppone al patteggiamento. Ieri in tribunale l'opposizione per l'appunto del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento. Parliamo di un fatto di cronaca che ci porta a Gualdotadino circa un anno fa quando un giovane era stato investito da un'auto e poi lasciato lungo la strada. Da ieri proprio si è tenuta l'udienza ma sentiremo proprio l'avvocato, il gale del ragazzo investito in un servizio nel corso della nostra rassegna stampa subito dopo la pubblicità. E poi invece ritrovato purtroppo da un drone nel Tevere il corpo di Patrizia Rondini, la donna che era scomparsa mercoledì da ferriera in serata. Il caso era stato trattato anche dal programma Chi l'ha visto e poi purtroppo nella giornata di ieri la tragica scoperta. La sfida di Michele Milli sul Monte Bianco per superare i limiti. Siamo ad Umberti, del giudoca non vedente è al lavoro, si sta preparando per tentare questa nuova impresa dopo la cima della Marmolada. Motociclisti sfrecciano sui prati gualdesi, vanno fermati, salviamo la montagna. Un'escursionista negli scorsi giorni ha firmato il passaggio nella zona protetta del poggio dell'Aerone ed esplosa la rabbia sui social. Ad Assisi invece e-bike e una ciclofficina, così la stazione si apre alle due ruote, biciclette elettriche per arrivare fino alla cima del Subasio. C'è questo nuovo progetto. A Todi invece lavori entro l'estate, gli ascensori per la risalita al centro storico. Al via anche il cantiere per il recupero completo della cinta muraria. Andiamo avanti e siamo a Foligno. Aziende della meccanica specializzano gli studenti. Confronto voluto dall'Istituto Orfini per il collegamento con il mondo del lavoro. Un settore in costante crescita ma serve sempre più personale specializzato. L'intervento aggredì una farmacista. È stata denunciata dalla polizia una 49enne dopo l'aggressione degli scorsi giorni. È stata avviata dunque un'attività investigativa. Per Spello risplende il centro piazzale di Sant'Andrea, ambiente destinato ad attività socioculturali. Trekking e cibo tra Subasio e Brunette alla scoperta dei rifugi del CAI. A Spoleto invece la cronaca con uno straniero che con l'accetta ha distrutto una pasticceria. L'assalto all'interno del bar Kiss della frazione di San Giovanni di Baiano. Il titolare è stata un'azione immotivata. Siamo spaventati. Sono in corso le indagini dei militari. E poi l'operazione il blitz antidroga in seguimento nella zona di Borgo. Preso 21enne con 25 dosi pronte di cocaina. Per la viabilità tornerà in funzione entro la fine di marzo. L'autovelox abbattuto lungo la Flaminia un mese fa è riposizionato mercoledì pomeriggio nel tratto compreso tra gli svincoli Pereggi, Acqua Sparta e Norcia Cascia in direzione di Spoleto e di Terni che era stato per l'appunto abbattuto. A Terni invece in primo piano le buche stradali con il comune che risparmia e taglia le ditte e compriamo i macchinari. Palazzo Spada decide di fare da sé e così saremo molto più efficienti. Questa è la motivazione. L'obiettivo è fare interventi lampo. Abbattiamo i tempi per asfaltare. Stadio clinica questa vicenda. Ci dice che salta la convenzione. È stallo. L'atto infatti non è stato discusso. L'assessore ha commentato. Attendiamo fiduciosi la risposta della Ternane. Poi un'altra truffa, una truffa che corre su WhatsApp. Un'anziana è stata derubata di 33 mila euro. La donna è stata contattata per una richiesta di aiuto finanziario da parte del figlio e sono state denunciate per questo quattro persone. Però come vedete un'altra truffa e ne abbiamo già lette due nel giro di poche pagine. Pochi taxi e vietati ai disabili. Arrivano nuove licenze. Siamo sempre a Terni. Ci sono due delibere per migliorare il servizio. Posti riservati alla cascata e all'ospedale. Vengono aumentate tutte le tariffe. Andare a piedi luco costerà 37 euro. L'incontro, l'assegnerazione di un capriolo al parco Ciaurro. Le ricerche però vanno a vuoto. Ieri mattina in tanti lo hanno ammirato. Poi è fuggito perché era stato inseguito da un cane. Per la sanità pronto soccorso preso d'assalto. In due mesi seguiti 8.561 pazienti. Parliamo del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. E poi l'8 marzo c'è una carrellata di eventi. La Casa delle Donne intanto compie i suoi primi dieci anni. A Lugnano in Teverina il ricordo di Giuseppina Lucidi uccisa dai tedeschi. A Narni invece il festival dei canti al femminile. Ad Arrone, Tirreno Adriatico, uno spot per la Valnerina. Una grande vetrina internazionale per il borgo medievale lungo il Nera. Il sindaco di Gioia dice Emozionante vedere tanti campioni. È una giornata storica. E poi invece a Dorvieto il lutto. La città perde men. Il mondo jazz si era mobilitato per lui. Riccardo Stefanini colpito da un malore. Non si era più ripreso. Per lui era stato organizzato anche un concerto. Andiamo avanti anche con le notizie del Corriere dell'Umbria. Che in apertura ci parlava di numeri della violenza sulle donne. Perché si è registrato un'impennata nel 2024. Un'impennata ovviamente delle richieste d'aiuto. Nei primi due mesi del nuovo anno si sono rivolte ai centri specializzati 136 persone. Nel 2023 erano state 374 in totale. Ma andiamo alle notizie dalle città più nel dettaglio. E partiamo dal capoluogo dove invece si parla di sosta agevolata in 489 stalli. L'assessore Merli abbiamo ottenuto da sabato a rifa 1,80 euro al giorno. Anziché 1,50 euro all'ora in gran parte della città. E poi ancora il furto al centro commerciale. Due giovani sono finiti in manette traditi da una protuberanza alla schiena. Sono stati arrestati dalla squadra mobile. Prendono l'autobus e vanno a rubare in un supermercato. Bloccati dagli agenti della polizia locale in via Mentana. Questo per quanto riguarda la cronaca. E poi rifiuti selvaggi. 86 sono le multe scattate grazie alle fototrappole. Sempre dal capoluogo. Ci spostiamo però, dopo alcune pagine che leggeremo più nel dettaglio, tra non molto. Ci spostiamo, dicevo, al Trasimeno. La crisi del Trasimeno serve l'acqua di Montedoglio. A dirlo è Meloni del PD. Farebbe crescere il livello di 10 centimetri l'anno. È stata annunciata su questo un'interrogazione parlamentare. A panicale oggetti e tavolette pittoriche tra gli ex voto di Mongiovino. Ad Assisi e Alpincio ci pensano i cittadini. Con il comitato che vuole sottoscrivere una carta per il recupero del parco e saranno coinvolte anche le scuole. A Bassia Umbra c'è il Consiglio Comunale aperto sul centro di accoglienza. E poi di nuovo dalla città Serafica, Vescovo e Sindacato a confronto sulla figura di Toniolo. A Todi col diretti in veste sui giovani, incontro formativo alla Cantina Toddini. E poi a Montecassello e di Vibio, Dodio ricorda Pietro Mariotti a 80 anni dalla sua uccisione. A Marsciano suoni di donne va in scena questa sera all'auditorium. A Sansepolcro leggiamo anche questo titolo. Rolex Diamanti ha finto carabiniere, medico in pensione, truffato per 50 mila euro. Lo leggevamo proprio in apertura. A Città di Castello invece il globo d'oro a Monica Bellucci. Questo prestigioso premio alla carriera per l'attrice Tifernate. Disco verde del Consiglio Comunale per aiutare gli agricoltori sempre dalla città Tifernate. E la storia di Ceramiche Noi che approda alla Bocconi e viene premiato il progetto che l'ha vista per protagonista. Intanto il Consiglio Comunale ricorda Arcangelo Milano. Andiamo avanti e siamo ad Umberti della generosità degli alunni con i bambini dell'elementare di Vittorio che hanno raccolto materiale scolastico per le persone più in difficoltà. Lo hanno donato alla Caritas. A Gubbio invece la Querelle sul Barbetti al Buio. Notari minaccia di andare altrove. Fiorucci di Gubbio Civica, strutture fatiscenti. Il sindaco Sirati investiti anche quest'anno 80 mila euro. A Guadotadino hub particolar sono state inaugurate le strutture del progetto cubano. E sempre da Gubbio fondi per la mobilità alternativa con il Comune che ha ottenuto un finanziamento di 175 mila euro. A Foligno vandali in centro incastrati dalle telecamere. Per la palestra invece è corsa contro il tempo. Occhi puntati sul cantiere al campo dei giochi. Per il Comune la priorità è demolire il vecchio impianto di via Nazario Sauro. Torna la sfida canora con i protagonisti, i rioni della giostra. E poi invece la cronaca, aggredì farmacista per ricetta, la polizia denuncia una donna. A Spello al via la tredicesima edizione nella sala dell'editto del Festival del Cinema. Di nuovo da Foligno, padre Anzo Fortunato, ospite del Rotary Club. A Spoleto invece torna, come detto, l'autovelox sulla Flaminia. Il rilevatore di velocità di velto da Fleximan un mese fa è stato ripristinato dal Comune, al bivio, per reggi, acqua sparta. E poi invece la lotta allo spaccio di droga. Un arresto e due denunce scattate a Foligno durante un controllo i carabinieri della Radiomobile hanno fermato un giovane di 21 anni. In casa aveva un piccolo laboratorio per il confezionamento delle dosi. A Sellano tutti i pazzi invece per il ponte tibetano. Con quest'opera che collega il centro storico con Monte Santo si trova ad un'altezza di 175 metri. La struttura finanziata con i fondi del PNRR per un costo di un milione e mezzo sarà aperta al pubblico il prossimo sabato 23 marzo. Ancora da Spoleto il ruolo e la responsabilità della polizia locale al centro di un incontro. A Terni, violenta la ex, pena di 4 anni. La cronaca dunque. Un 34enne spoletino non si rassegnava alla fine della storia con una ternana. Primi atti persecutori e poi anche gli abusi sessuali. Polizia postale al lavoro. Truffa via messaggi. Un'anziana a Terni è stata derubata di 33 mila euro. Quattro le denunce scattate. Per la sicurezza aumentano le telecamere nei parchi pubblici. E poi i vertici Rai dicono Bandecchia recato danno ad Agorà. Presidente e amministratore delegato di Via Mazzini rispondono in commissione bicamerali ai deputati del Movimento 5 Stelle. Per la politica prime crepi in alternativa popolare il consigliere Primeri passa al gruppo misto. E invece la provocazione del primo cittadino, la maggior parte degli onorevoli sono un pocani, allora candido Milo. Il sindaco fa parlare tutta Italia presentandosi sui social con in braccio il suo barboncino per annunciare che è il primo scelto per le liste delle europee. L'ospedale cerca due primari. Siamo sempre a Terni, riorganizzazione in atto a Santa Maria, pubblicato l'avviso pubblico per le strutture complesse di cardiochirurgia e ostetricia ginecologia. Con 30 euro invece la decisione si potrà andare in taxi dal centro ternano a Carsule. A Narni centro visite via al cantiere verrà realizzato a Sifoni, in locali comunali funzionerà come infopoint per tutte le gole del Nera. Ad Amelia studenti a lezione di sicurezza stradale con la polizia. A Narni nuove industrie in arrivo, la salute è a rischio, l'allarme degli ambientalisti. Ad Orvieto invece la politica, palazzetti sulla sanità, dice le liste d'attesa sono aumentate. Anche la candidata sindaco di proposta civica interviene sul tema più caldo della campagna elettorale. Dice che medici e infermieri sono sotto organico fino al 30%. Uno sguardo anche alle notizie con la nazione, sempre dalle città dell'Umbria. A Perugia ne leggiamo solo alcune. Ad esempio, Quaresima Generosa ha continuato a donare in Umbria una famiglia su dieci povera. Ci sono le raccolte nelle parrocchie per i progetti di Caritas e per la Terra Sante. Poi in Piazzale Europa riapre il baretto, un locale che fa aggregazione. L'Anteas CISL fa il punto, volontariato. Ci siamo con 11 associazioni, turismo sociale, supporto anziani e disabili. Queste le priorità. Dal Trasimeno al Lago la pioggia non basta. Accordo con la Toscana per l'acqua di Monte Doio. A Magione tagliati i rovi infessanti sulle sponde. Basta, finto, ambientalismo. Intervento nella zona di Monte del Lago. Ad Assisi il turista non è solo un cliente, operatori e amministratori vanno a lezioni di accoglienza. A Bassia Umbra festa per Orietta Sortini, premio alla super ostetrica. A Gubbio il barbetti che resta al budio, lite tra notarie comune sull'illuminazione che salta. Sempre a Gubbio si è rinnovata la tradizione del Segamo la Vecchia, tradizione di metà quaresima. A Guadotadino, strada di Santo Marzio, interventi antifrana. A Nocera Umbra la Corale Santa Cecilia si esibisce a Perugia. A Città di Castello salviamo la nostra agricoltura, meno tasse più credito e tavolo verde. E le ceramiche Noi, la cooperativa che è stata premiata alla Bocconi di Milano. Ancora da Città di Castello il rugby è uno sport anche per donne. Nasce la prima squadra femminile. Più in basso invece illuminati come un tribunale la sera del processo storico. Sul palco lo spettacolo confronto sul femminicidio. Ad Umberti de Merli a Cardi nominati referenti dei Cinque Stelle. A Foligno aggredì una farmacista denunciata per minacce e violenza. È la lista civica di Moreno Finamonti, la voce di Foligno, che inaugura la propria sede. Sempre a Foligno la messa in sicurezza del topino. Oggi c'è la presentazione del piano. Mentre a Spoleto, come detto, è stato ripristinato l'autovelox di Eggi. Indagini sul danneggiamento. A Terni invece anziana truffata, quattro i denunciati, la scusa a suo figlio a problemi economici. E poi l'appello. Servono più controlli sulle vendite abusive dei fiori. A Dorvieto campagna elettorale sulla sanità. Fuoco incrociato verso il sindaco con i candidati Parazzetti e Biagioli che attaccano Tardani per i tempi delle liste d'attesa e le promesse ritenute vane. Da Monteleone Dorvieto nuova segnaletica turistica interattiva. Uno sguardo anche ai titoli dello sport. Sempre con la Nazione, calcio di Serie C in apertura. Perugia, marzo, è il mese verità. Vasquez si scalda per l'Ancona nelle due trasferte bianco-rossi, prima a Gubbio e poi a Carrara. Formisano pensa al riscatto, dubbio Lewis. Sempre per il Perugia, infortunio shock, con Cipressa che è stato operato dal dottor Cerulli. Il guardalini si è rotto, ambe due, le ginocchia in Cosenza, Catanzaro. Per il calcio di Serie C ancora, Gubbio è completo. A Cesena ci andiamo senza paura. Calcio eccellenza BMG, sogno di Coppa, ma ora c'è Foligno. Per la Ternane, dunque calcio di Serie B. Il ciclo di Ferro, prima Pisa, poi il Cosenza. Breda nasconde la squadra, ma deve fare a meno di De Boer. Squalificato, i tifosi rossoverdi ci credono. All'Arena Garibaldi saranno almeno in 600. Per il basket playoff Serie B femminile, Perugia sfida Isquilino. Posti chiama i tifosi. Per il volley di Superlega, Sir con la testa già a Verona. Dobbiamo migliorare per conquistare la Serie. Con il messaggero, Ternana, due Pisani. L'arma in più è il titolo in apertura con lo sport. Luperini e Favilli pronti a sfidare la squadra della città dove sono nati. Potrebbero essere tutti e due in campo. Entrambi vogliono rifarsi per le amarezze e le delusioni che spesso hanno dovuto raccogliere contro i Nerazzurri. Il personaggio da Terni, Marinai all'Arena c'è un nuovo tifoso. E poi l'evento, torneo del Drago. Lo spirito del rugby scende in campo con 500 giovani atleti. Calcio di Serie C. Grifo, Formisano cambia assetto. Contro l'Ancona sarà vietato sbagliare in difesa. Pronti Angela, Lewis e Mezzoni. Ricci sulla tre quarti può partire titolare. Poi Silla e Vasquez si giocano una maglia. Per i motori da Foligno scatta il terzo rally città di Foligno. Domenica la sfida su 286 chilometri. Qualche titolo anche con il Corriere dell'Umbria. Terni va all'assalto di Pisa. Oltre 400 tifosi sono pronti a sostenere la squadra all'Arena Garibaldi. Anconetani, 5 punti di ritardo delle fere sui toscani. Che in casa vanno però a rilento. E poi per il calcio di Serie B femminile. Già da Tarantino e la promozione. Dice non soltanto Noiera Lazio. Ci sono anche Cesena e Parma. Per il calcio di Serie C un grifo senza personalità. Tre sconfitte in trasferta senza che la squadra sia riuscita a reagire allo svantaggio. È accaduto seppur in condizioni diverse a Vercelli contro il Sersri Levanti, Sassari e Chiavari. E poi invece per il Gubbio una doppietta al Cesena. L'attaccante Bernardotto è rientrato in squadra dopo un mese di stop e ha subito segnato contro l'Arezzo. e dice ma ora sogno di farne due in casa della Capolissa. Con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro Tg Mattino. Chiudiamo prima pagina ma ovviamente dopo la pubblicità torniamo con la nostra rassegna stampa approfondita e anche con i servizi del giorno. A tra poco.